ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi primo video del 2021 vi auguro a tutti un buon 2021 speriamo che sia molto ma molto diverso da quello che abbiamo trascorso migliore per tutti allora ragazzi il video nasce perché perché in questi ultimi mesi sto vedendo in giro tantissime cose ragazzi tantissime cose serie tantissime balle tantissime fake tante cose ragazzi il mondo della micromobilità ormai diciamo alla portata di tutti c'è quello più serio c'è quello più furbetto c'è quello più stronzetto eccetera eccetera bene ragazzi oggi vi mostro che cosa mi mostro quello che tutti fanno o meglio quello che un buon 90 per cento fanno nello specifico è potenziare il monopattino potenziare la bici elettrica e far vedere su youtube su facebook su instagram video dove appunto inquadrano il quadro strumenti chilometri orari e ti mostrano appunto che questo mezzo dopo questa fantomatica modifica ha raggiunto prestazioni mamma mia da capogiro e 50 60 70 chilometri orari 80 chilometri orari io come ti farò vedere nel video che prosegue sono riuscito ad arrivare a 103 chilometri orari ragazzi il mio è un kiri di m4 pro dai 500 watt perciò se sei qui se stai guardando questo video è perché vuoi sapere come ho fatto innanzitutto ti voglio ricordare la guida tecnico manuale che trovi su amazon il manuale del monopattino elettrico e dove troverai tantissime informazioni tecniche ragazzi troverai tutto ciò che devi sapere tutto ciò che ti serve sapere sia per la scelta del monopattino elettrico che per la sua diciamo manutenzione che per gli accessori ci sono tantissimi quercode che ti porteranno direttamente agli store più grandi del mondo che sia l'iexpress che sia amazon ebay banggood con offerte riservate soled esclusivamente per voi che acquistate il manuale tecnico anche perché perché sono in accordo con tantissimi rivenditori in giro per il mondo e hanno riservato ottimi prezzi per tutti ragazzi e basta scannerizzare i vari quercode per andare subito immediatamente a trovare il prodotto online torniamo comunque alla modifica ragazzi tutto inizia così finalmente ce l'ho fatta ho fatto una modifica che ragazzi so che la vorrete tutti andiamo via velocità 1 11 13 16 21 23 27 39 38 39 km orari con velocità 1 passiamo con la 2 35 35 39 44 69 70 ragazzi velocità 2 70 km orari andiamo con la 3 e non basta nemmeno 103 km orari ragazzi in velocità 3 103 km orari massimo il display come avisti è arrivato a 99 e poi si è bloccato segnando meno 3 battery maker sotto in descrizione trovi tutti i link l'unico corso nazionale e internazionale sulla customizzazione di pacchi batterie per il video iscriviti anche tu tantissimi miei studenti oggi stanno studiando si stanno applicando in un settore davvero davvero buono sia economicamente che come soddisfazioni personali ti ricordo anche i miei fascicoli tecnici cartaici che trovi su amazon e sono pacco batterie 3s 7s 10s c'è anche quello sui pannelli fotovoltaici bene ragazzi allora fatto il tutto vi spiego cosa è successo come sono riuscita ad avere 103 km orari e sul mio kirin m4 pro senza spendere un euro si hai capito bene non ho speso nulla e ci sono stato circa 4 minuti tra varie prove vari settaggi perché ovviamente è stata tutta una cosa ragazzi via software benissimo e va bene stavo scherzando so che non siamo ad aprile non è un pesce ad aprile però ragazzi state attenti è tutto falso è un gioco è uno scherzo io ho fatto questo video per mettervi in guardia vi spiego ora cosa ho fatto e come ci sono riuscito perché la velocità realmente sul display è più alta e siamo arrivati come visto a velocità altissime a differenza del monopattino originario e allora andiamo accendiamo il computerino perfetto entriamo nel menu nascosto che ha questa tipologia di controller di display si cliccano entrambi perfetto ok perfetto questo è il menu segreto p2 p4 p6 al p6 dobbiamo andare a programmare dire alla centralina quant'è il diametro della nostra gomma cioè della nostra ruota in base a quello il computer interno andrà a calcolare i chilometri orari più è piccola la ruota e meno chilometri orari riuscirai a fare più è grande la ruota ragazzi più chilometri orari farai cioè con la stessa potenza il display ti andrà a indicare molti più chilometri orari cioè è tutta una cosa diciamo architettata appunto per fare gli imbrogli online siccome io me ne sono accorto e ora vi sto creando questo video ad hoc dove vi spiego come riescono a fare il 90 per cento della gente in giro per il mondo modificano questo valore e vanno molto ma molto più forte come visto 103 chilometri orari niente ragazzi per questo video è tutto grazie per la visione spero ti sia stato d'aiuto spero che non ti sia sembrato banale però è molto importante perché in questo mondo bisogna stare attenti poi online ancora di più perché non tutti dicono la verità iscriviti anche al canale telegram mi raccomando ciao e al prossimo video